Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi sostiene che l'ospedale unico deve essere realizzato all'interno del territorio comunale. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi risponde all'invito dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che ha chiesto esplicitamente al territorio teramano di fare presto ad individuare la sede dell'ospedale unico. Secondo Brucchi una città capoluogo di provincia deve avere nel suo comune l'ospedale di riferimento. Buona dunque la proposta del vice presidente del consiglio regionale Paolo Gatti che individua nell'area industriale di San Nicolò una possibile locazione. Altrettanto positiva è la proposta del consigliere comunale Maurizio Verna che prevede l'insediamento di un ospedale unico nella zona in prossimità della rotonda dello stadio di Piano Daccio. Ma il sindaco di Teramo propone un'ulteriore ipotesi in località Piane Sant'Atto. Per la regione questi sono ragionamenti all'inverso. Bisogna prima pensare di realizzare un ospedale all'avanguardia che salvi la vita alla gente e poi decidere dove posizionarlo. Quanto è importante avere l'ospedale unico in provincia di Teramo? È fondamentale e vitale perché dopo un'attenta analisi e un attento studio si è capito benissimo che ormai è l'unica direzione da percorrere per dare una salita di qualità e per permettere alla nostra gente di stare tranquilla, di curarsi bene e di non dover più guardare di fuori della nostra regione. Io prima che discutere dell'ubicazione che naturalmente e giustamente è una discussione puramente politica oltre che di opportunità che non mi sfuggono, mi preme più far capire e far metabolizzare il fatto che avere un ospedale unico vuol dire avere una sanità di qualità, vuol dire essere più tranquilli come dicevo poc'anzi e quindi donare più senerità alla nostra gente. E dei vecchi ospedali che cosa ne faremo? Su questo appunto è nato uno studio che riguarda i vecchi plessi che dovranno essere riconvertiti e quindi su questo c'è un'analisi attenta anche economico-sociale del nostro territorio perché questo è il vero grande tema, cioè evitare che ci siano poi delle cattedrali nel deserto. Va sicuramente individuato subito il sito e bisogna immediatamente procedere alla progettazione e alla realizzazione successiva dell'ospedale. Non possiamo perdere tempo e il tutto deve avvenire necessariamente entro i 5-6 anni. È durato due ore il confronto tra il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e il Movimento Avanti Tutta costituito a difesa del Presidio ospedaliero di Popoli. All'incontro che si è svolto questa mattina nella sede di Pescara della Regione hanno partecipato anche il Direttore Generale della ASLA Armando Mancini, il Direttore Sanitario Valterio Fortunato, il Direttore del Dipartimento regionale della Sanità Angelo Muraglia e Alfonso Mascitelli, Direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale, nonché il Sindaco di Popoli, Concezio Galli. Il Presidente D'Alfonso ha analizzato con attenzione la proposta illustrata dal Movimento e stimolato il confronto con il Direttore Generale della ASLA Mancini che nei prossimi giorni presenterà l'atto aziendale. Dobbiamo individuare il punto di equilibrio tra proposta e fattibilità dei contenuti di essa affinché la struttura ospedaliera possa rimanere vitale e funzionante sul territorio, ha detto il Presidente D'Alfonso. L'emendamento parlamentare presentato dall'On. Castricone è stato un atto legislativo importante rispetto al quale ora è necessario costruire un percorso condiviso. Un percorso, ha aggiunto D'Alfonso, che deve assolutamente tener conto anche dell'analisi tecnica del tavolo di monitoraggio del Ministero della Sanità che non lascia spazi a incertezze normative o eccedenze. L'atto aziendale della ASLA di Pescara sarà presentato dal Direttore Generale Mancini il prossimo 18 aprile in occasione della conferenza ristretta dei sindaci. L'Unione Europea conferma il bisogno di tutelare la Fossa di Pomo, considerata la più importante nursery di naselli e scampi esistente nell'Adriatico. La decisione rappresenta un duro colpo per la marineria che questa mattina ha partecipato a Pescara ad una riunione alla presenza di tutte le istituzioni coinvolte nella vicenda. La Fossa di Pomo va tutelata e l'azione va fatta in collaborazione e d'accordo con la Croazia. E' questa la risposta dell'Unione Europea all'interrogazione prodotta dall'eurodeputato Marco Affronte sul rischio impoverimento della Fossa di Pome. Un'area situata proprio davanti al litorale pescarese, definito come la nursery di naselli e scampi, più importanti di tutto l'Adriatico. La questione ha subito visto l'intervento della marineria che ha subito una chiusura sull'intera area. E così questa mattina a riunirsi attorno a un tavolo tutte le rappresentanze del caso tra istituzioni e associazioni. Obiettivo presentare una proposta che possa ottenere una restrizione alla pesca e non un divieto netto. In questo caso la proposta quale vorrebbe essere? Quella di evitare che ci siano forme di pesche invasive, quelle che distruggono il pescato irrimediabilmente. Questo però non vuol dire estromettere completamente queste attività di pesca dal sistema della pesca. La soluzione è ottimista e possibilista poiché riduce lo sforzo di pesca addirittura a 72 ore dalle 96 con un intervento di due giorni alla settimana, massimo due giorni alla settimana, solo nella fossa di pomo. Quindi da parte delle marinerie, soprattutto quella abruzzese rappresentata qui dal presidente dell'associazione Mimmo Grosso, mi sembra che ci sia una volontà molto intelligente, molto buona rispetto a quello che è lo sforzo di pesca ma anche la tutela di un bacino importante. Sib e Fiba, le due associazioni di categoria che difendono gli interessi dei balneari, esprimono il loro dissenso rispetto alla legge sul demanio marittimo approvata dalla regione Abruzzo. La legge prevede il legittimo affidamento delle concessioni demaniali ai soggetti che ne erano titolari prima del 2010 e garantisce un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale. Il servizio di Alfredo Primante. Siamo davvero delusi dall'approvazione da parte della regione Abruzzo di una legge sul demanio marittimo nella quale riponevamo molte aspettative, così in una nota i presidenti di Sib e Fiba, Riccardo Padovano e Giuseppe Fusi. Eppure continuano nel comunicato, nel corso del convegno tenutosi su questo argomento, Nel recente Saral Food avevamo espresso con chiarezza al governatore D'Alfonso al cospetto di un'ampia platea di balneari quale indirizzo avrebbe dovuto avere il testo di legge. Purtroppo, malgrado le rassicurazioni ricevute, dicono i due presidenti, ci troviamo di fronte ad una legge che è una semplice enunciazione di principio senza nessuna ricaduta sulla difficile situazione delle imprese balnearie che, tra l'altro, quasi sicuramente risulterà in contrasto con le norme europee. Abbiamo più volte ribadito, continua il comunicato, che sarebbe stata necessaria una proposta più incisiva sulla falsariga del testo giavarato dalla regione toscana che ha generato in pochi mesi l'avvio di circa 400 piani di investimento. In Abruzzo, conclude la nota, si potrebbe avere un analogo sviluppo che coinvolgerebbe 700 stabilimenti e potrebbe generare oltre 200 milioni di euro di investimenti. I militari della stazione navale della Guardia di Finanza di Pescara hanno rinvenuto e sequestrato nel comune di Cappelle sul Tavo una discarica abusiva utilizzata per ammassare decine di tonnellate di rifiuti, molti dei quali pericolosi. L'area interessata è una porzione di terreno agricolo che si estende per una superficie complessiva di circa 2350 metri quadrati sulla quale sono stati riversati nel tempo rifiuti pericolosi e non. Sono stati abbandonati con sistematicità direttamente sul suolo e tra la vegetazione circostante, esponendoli completamente all'azione dei vari agenti atmosferici e rilasciando attraverso le acque di dilavamento le loro sostanze nocive direttamente sul terreno e nel sottosuolo, deturpando gravemente il territorio e soprattutto provocando gravi danni ambientali. Il responsabile della discarica abusiva, nonché proprietario del terreno, è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente. La commissione incarichi direttivi del CSM ha indicato all'unanimità il nome del procuratore aggiunto di Bologna, Massimiliano Serpi, per il posto di procuratore capo a Pescara. Solitamente, quando la proposta all'unanimità in commissione, dopo un parere del Ministero della Giustizia, il plenum del CSM si esprime di fatto ratificando la nomina. A Pescara prenderà il posto di Cristina Tedeschini, che passerà a dirigere la procura di Pesaro. Serpi, 65 anni, originario di Imola, in provincia di Bologna, tra i casi giudiziari più importanti che ha seguito il disastro aereo all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno e il processo a carico di Luigi Ciavardini per la strage della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, tra le prime indagini che dovrà affrontare in Abruzzo quella relativa alla strage dell'hotel Rigopiano. Il consigliere della lista, Teodoro Massimiliano Pignoli, torniamo dunque a Pescara, questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha parlato del problema delle lunghe file con cui i cittadini devono fare i conti presso il distretto ASL di Via Rieti. Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, oggi in conferenza stampa lei ha denunciato una problematica che riguarda il distretto ASL di Via Rieti a Pescara, lunghe file e disagi per i tanti cittadini, per i tanti utenti che si recano quotidianamente presso Via Rieti. Le persone bisognose per essere senti da prestazioni sanitarie ASL hanno bisogno di un timbro appunto dell'ASL stessa che li dispensa appunto al pagamento del ticket. Questo avviene ogni anno nel mese di aprile. Siccome l'ASL di Via Rieti ha destinato a queste povere persone, povere in senso lato, a queste persone bisognose soltanto ed esclusivamente tre giorni a settimana, martedì, mercoledì e giovedì, per due ore si è creato quello che si poteva immaginare. Subito ho interessato di questa cosa la segreteria dell'assessore il quale prontamente, devo dire, e ringraziando anticipatamente, ha deliberato ieri in giunta regionale che non bisogna più recarsi presso l'ASL di appartenenza per avere l'esenzione se esiste ancora lo stato di giustizia ma vale il timbro effettuato l'anno precedente. Quindi con grande soddisfazione posso annunciare la risoluzione anche di questo problema. La cosa che mi spiace è che purtroppo di queste persone e mi posso vantare di questo, solo il consigliere Pignoli se ne interessa durante l'anno. Gli altri politici di questa amministrazione se interessa di queste persone solo e esclusivamente al ridosso delle elezioni chiedendo il voto e poi scomparendo. Io come vedete ci metto la faccia 365 giorni all'anno per 5 anni nel mandato. La mia porta, voi lo sapete, è sempre piena di gente bisognosa che ha bisogno anche e solo di essere ascoltata per uno sfogo principale. Questo lo faccio con gioia perché questo è quello che mi ha delegato la gente a fare ricordando che sono stato il terzo più votato a Pescara con oltre 1000 voti di preferenza e che questo sindaco che io non riconosco ormai dall'inizio legislatura non ha voluto premiarmi praticamente con una rappresentanza ingiunta né a me né tantomeno al mio partito. Da lunedì 10 aprile le certificazioni rilasciate per l'esenzione del pagamento dei ticket sanitari per motivi di reddito riferite a cittadini ultra 65 anni che non presentano dichiarazioni fiscali non avranno più scadenza. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Coloro che usufruiscono dei codici di esenzione non saranno più costretti ogni anno a recarsi agli sportelli ASL per ottenere l'attestazione. Dovranno farlo solo se la condizione reddituale dovesse mutare non rientrando più nelle fasce di esenzione. Attualmente invece i certificati rilasciati in qualunque periodo dell'anno scadevano il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Con questo provvedimento di buonsenso spiega Paolucci andiamo incontro alle legittime aspettative degli abruzzesi molti dei quali sono costretti a perdere intere giornate in fila negli uffici delle aziende sanitarie con tutti i disagi che ne derivano. Presentato questa mattina il progetto rieducazione sport formativo promosso dall'Unione Sportiva ACLI Comitato Provinciale di Pescara è patrocinato dal Comune. Il progetto si svolgerà presso la casa circondariale San Donato di Pescara. Com'è nata l'idea di questo progetto che vuole essere ovviamente un progetto rivolto ai detenuti della casa circondariale di San Donato? Un progetto che abbiamo pensato già da diverso tempo proprio perché questa amministrazione vuole porre un'attenzione, una sensibilità anche a quella parte di società che in qualche maniera ha avuto qualche intoppo nella vita e quindi crediamo che un recupero permetterebbe loro di una volta fuori, al di fuori di questa delle mura di trovare qualche possibilità sia a livello sociale che a livello lavorativo. Il progetto è un progetto importante fatto a moduli ci saranno diversi interventi sia sportivi che formativi ci sarà l'Avis per la prevenzione ci sarà l'Astonauto per quanto riguarda un'attività di recupero delle manualità perdute ci sarà nel centro servizi assistenza per quanto riguarda un corso di primo pronto soccorso c'è un ASD la Pescara Sud che farà attività motoria di base e c'è una bella novità attraverso una associazione la Boot Camp un'attività che l'esercito americano usa per fare la propria attività speriamo di coinvolgere tutto il penitenziario Per noi è importante perché questo progetto è molto ambizioso per due ordini emotivi non soltanto perché mira a far crescere il detenuto quindi per il suo recupero per la sua rieducazione per il suo benessere ma mira anche a farlo avvicinare di più alla società infatti noi prevediamo che possa essere avviata una serie di attività che poi possa sperimentare anche all'esterno e questo quindi consente al detenuto di avviare prima ancora del termine di fine pena una serie di attività di inclusione sociale che speriamo possono poi beneficiare tutto il processore educativo Il ruolo del digital marketing nel mercato globale alla Facoltà di Economia dell'Università d'Annunzio a Pescara si è svolto un convegno che ha analizzato ruoli e scenari della web economy vediamo Si definisce digital marketing l'insieme delle attività di marketing che utilizzano i canali web per sviluppare la propria rete commerciale analizzare i trend di mercato prevederne l'andamento e creare offerte sul profilo del cliente target attività che sempre di più vengono affiancate alla vendita tradizionale basti pensare all'e-commerce che vede crescere la percentuale di utilizzo anno dopo anno il tema è stato al centro di un convegno organizzato alla Facoltà di Economia dell'Università d'Annunzio che ha messo a confronto istituzioni e docenti per guardare gli scenari globali e le prospettive alle quali si affacciano oggi aziende e produttori di tutto il mondo Il marketing è profondamente cambiato in questi ultimi tempi è tornato se vogliamo alla personalizzazione che c'era quando c'era una produzione non di massa quindi quando la produzione era fatta dagli artigiani naturalmente trasferito su una produzione di massa quindi la personalizzazione della produzione credo che sia molto importante che nei percorsi formativi si inseriscano durante il percorso questi nuovi strumenti è fondamentale per far sì che i nostri studenti siano competitivi in un mercato internazionale Tra i relatori istituzionali è anche la Camera di Commercio di Chieti che ha raccontato iniziative e attività di formazioni promosse sul territorio per offrire nuovi strumenti capaci di rinnovare il mercato classico della vendita peraltro ora introdurremo anche nell'ambito turistico noi abbiamo realizzato partecipato alla realizzazione del Galcos ai Trabocchi per primi penso in Italia abbiamo introdotto il tema dell'ecosistema digitale l'ecosistema digitale che è uno degli elementi strategici fondamentali del piano strategico di sviluppo del turismo italiano che è stato approvato negli ultimi giorni quindi è una strategia globale che stiamo portando avanti per portare avvicinare le persone e le aziende al marketing digitale ci è svolto a Teramo il primo convegno nazionale SVETAP sul ruolo del veterinario in apicoltura l'evento è stato organizzato dall'istituto zoo profilattico dell'Abruzzo e del Morise dalla società scientifica veterinaria per l'apicoltura e dall'università degli studi di Teramo solo oggi in Abruzzo ci sono circa 45 mila alveari e un numero sempre maggiore di apicoltori vediamo a leggere gli ultimi dati sull'apicoltura in Italia si resta davvero sorpresi si calcola ci siano un milione e duecentomila alveari distribuiti nelle varie regioni 45 mila apicoltori censiti di cui 20 mila che fanno dell'apicoltura una professione o una fonte di reddito significativa la comparsa però di nuove patologie in Europa impongono l'acquisizione di competenze specifiche da parte dei professionisti che operano in questo comparto della zootecnia per approfondire questi aspetti a Teramo si è svolto il primo convegno nazionale SVETAP organizzato dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise dalla società scientifica veterinaria per l'apicoltura e dall'università degli studi di Teramo l'IZS di Teramo in particolare possiede un elevato livello di competenza tecnica nel settore delle anagrafi animali dal 2015 poi è stata istituita anche l'anagrafe delle api per la tracciabilità di questi piccoli animali che rappresentano un pilastro fondamentale per l'agricoltura quali sono le malattie che colpiscono maggiormente le api? purtroppo le api non fanno eccezione rispetto ad altri animali e rispetto allo stesso uomo nel senso che ci sono molteplici agenti di malattia di natura molto diversa tra loro possono essere protozoi possono essere batteri possono essere virus possono essere altri insetti possono essere con le otteri pericolosi per l'uomo no direi di no ci sono malattie direttamente pericolose per l'uomo delle api i danni possono essere indiretti nel senso che ci potrebbero essere ma è solo un'eventualità naturalmente delle contaminazioni del miele che provengono dal trattamento farmacologico che è stato fatto sulle api anche se fortunatamente non è un evento frequente il convegno nazionale Svetap che si è svolto all'ospedale veterinario dell'università degli studi di Teramo ha avuto il merito di facilitare la condivisione di diverse esperienze informazioni e metodologie tra gli operatori del settore apistico che hanno esigenze del tutto nuove alla luce del panorama normativo vigente nelle diverse regioni e ora apriamo la pagina dello sport parliamo di Serie A e di Pescara seduta di rifinitura stamani per i biancazzurri come confermato ai nostri microfoni ieri sera attaccante Baebec nonostante un piccolo indurimento al polpaccio si è regolarmente allenato ed è convocato per la gara verità di domani al Castellani contro l'Empoli Zeman quasi certamente confermerà la squadra che ha fermato il Milan con Fiorillo tra i pali Bovo e Campagnaro centrali il gioiellino Kulibari in mediana con Montari e Memushai e poi il tridente con Bedali Baebec e Caprari solo un risultato a disposizione dei biancazzurri ovvero la vittoria di contro una squadra che Zeman a dispetto delle sette sconfitte consecutive non vede in crisi vediamo come ha parlato questa mattina il tecnico Boemo da parte che per noi dovrebbe essere lo stesso chi gioca e chi non gioca dobbiamo cercare di imporre il nostro è una squadra che non vedo in difficoltà nel senso che è vero che i risultati non ci portano però è normale che con la Roma con Napoli è difficile fare risultati quando io penso a prescindere che vorranno vincere dopo tanto tempo e visto che giocano come ultima in classifica penso che ci sembrerà più facile io penso che ci provano di nuovo il discorso che Empoli gioca perché ci hanno un passato tra Rassari e Giampaolo con una difesa ben organizzata la linea di quattro che sta lavorando insieme molto bene e poi avanti hanno delle qualità Senti L'Empoli non è in difficoltà e il Pescara invece in questo momento come può essere definito? E' cambiato il risultato con Milano e cambia un po' nel senso che la squadra se riesce a rispettare se la può giocare con tante squadre in Serie A io spero che la squadra trova la voglia di affrontare l'avversario cercando di costruire qualche cosa e di giocare un certo tipo di calcio Secondo lei questa è la partita più importante della stagione? Penso di sì a parte che sempre si dice sempre lo stesso ogni partita che si gioca che è la più importante per noi purtroppo non siamo riusciti a fare le partite a Chievo e con la Sampdoria a livelli buoni Vabbè a parte Montari penso che la squadra corre ma non è da ridere perché a me il regista il mediano centrocampista non deve correre perché perde la lucidità gli altri la possono perdere Coulibaly è un giovane senza grande esperienza o forse senza nessuna esperienza che ha del talento poi nel calcio non basta avere talento bisogna avere la voglia di migliorarsi la voglia di lavorare per diventare giocatore vero penso che ci vuole un po' di tempo sul fronte Empoli l'allenatore Martuscello ha quasi tutti a disposizione unico assente certo Lex Ciosic in dubbio Krunic i toscani si affideranno al solito 4-3-1-2 con Skorupski tra i pali linea di difesa composta da Laurini Veseli Costa e Pasquale in mediana ballottaggio tra i calciatori Dius e Buchel con Buchel favorito e poi Teio e Croce a completare la linea mediana in attacco il Caduria gira a ridosso delle due punte che dovrebbero essere come a Roma gli ex lancianesi Tiam e Marilungo in panchina Micelizze e Maccarone sempre sul fronte Pescara dell'importanza della gara di domani ha parlato anche il difensore Michele Fornasiera che comunque dovrebbe partire dalla panchina Michele Fornasiera allora si parla ovviamente di questa partita con l'Empoli una gara da dentro fuori inutile girarci tanto attorno sì è una gara importantissima per noi e andiamo lì convinti abbiamo lavorato tutta la settimana pensando solo a questa partita che è veramente importante e determinante per il proseguo Empoli che ha conquistato un punto nelle ultime nuove partite voi credete ad una squadra in crisi? Beh di sicuro i risultati dicono questo però come lo dicono loro lo dicono pure i nostri quindi come ho detto prima siamo concentrati per andare lì e giocarcela al 100% Pareggio con il Milan ha regalato però fiducia alla squadra una buona prova contro una delle grandi del campionato sì siamo stati contenti della nostra prova e soprattutto dare qualche soddisfazione per noi stessi ma comunque anche per i tifosi perché contro una grande squadra ce l'abbiamo messa tutta e alla fine il risultato era comunque buono Si guarda al presente ma si pensa anche al futuro Michele Fornasier ha ancora un altro anno di contratto con il Pescara tu saresti disponibile a restare che sia Serie A o Serie B nel prossimo anno? Certo poi non dimettere da me io ora come ora non ci penso né tra i miei pensieri questa cosa perché voglio stare concentrato fino alla fine su ogni partita che abbiamo e poi però deciderà il presidente col mister e con me insieme e vediamo cosa succede E ora la Lega Pro la partita di domenica alle 16.30 tra Terramo e Reggiana sarà diretta da Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia e con dieci punti nelle ultime quattro gare il Terramo scaccia via i fantasmi dell'ultimo posto e torna a credere fermamente nella salvezza diretta qualcosa è cambiato nella testa dei giocatori ma guai ad abbassare la guardia la pensano così due dei protagonisti della vittoria di Ancona ovvero Riccardo Barbuti e Mirko Spighi Senti Riccardo l'Ancona proprio non la tolleri con la maglia del Lumezzane o con quella del Terramo ti piace proprio segnare Sì e poi sempre in quella porta diciamo che mi porta fortuna è una vittoria importante sono contento siamo contenti adesso abbiamo veramente un bel gruppo e la salvezza diretta è sempre più vicina e noi ci crediamo fermamente e ci credevamo anche prima Magari il Terramo qualche tempo fa questo tipo di partite l'avrebbe perso perché c'era da combattere adesso che cosa è cambiato? Adesso è cambiato che ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ragazzi ce la dobbiamo fare perché siamo un grande gruppo e da lì in poi è scattato qualcosa che ci ha unito ancora di più e ci ha fatto fare un passo da gigante hai una dedica particolare? ma dedica a tutti quelli che mi vogliono bene anche la mia amorosa che mi sta sempre vicino Mirko non è stata per niente una gara facile come forse vi aspettavate però alla fine è arrivato il risultato che sicuramente volevate ma noi non ci aspettavamo niente di facile perché nessuno regala niente anche se le condizioni di questa squadra purtroppo le conosciamo ma hanno lottato col cuore quindi non ci ha regalato niente e siamo stati bravi perché era un campo veramente difficile le condizioni del terreno erano quasi impraticabili ma siamo riusciti a stare sul pezzo sempre in partita e poi abbiamo trovato un gol bello perché ha fatto una grandissima giocata Riccardo che se lo merita quattro risultati utili consecutivi dopo Bergamo che cosa è successo? Sicuramente c'è stata una svolta e questo non so da cosa si è dovuto però abbiamo trovato sicuramente un'identità di gioco ci siamo messi ben in campo e ho visto proprio da parte di tutti una grinta e una collaborazione per portare a casa il risultato Senti adesso l'errore sarebbe pensare che i giochi sono fatti il terreno è salvo praticamente non è così c'è ancora da sudare? Sì è dura perché siamo tutte lì siamo mi sembra 7-8 squadre che si giocano per 4 posti per non entrare nei play-out quindi sicuramente non dobbiamo abbassare la concentrazione stare sempre sul pezzo allenarci molto bene come stiamo facendo e credo che possiamo togliere delle soddisfazioni sarà una festa dello sport e del podismo domenica mattina Pescara sarà colorata dagli atleti professionisti ed amatoriali che si sfideranno nella Vivi Città sono attesi circa 1500 maratoneti alla Vivi Città Pescara manifestazione podistica promossa dalla WISP con il patrocinio del comune la doppia maratona professionistica amatoriale giunta alla sua 34esima edizione e si svolgerà su un circuito di 6 km da ripetere due volte per un totale di 12 diverse le novità in cantiere fra cui alcuni gemellaggi solidali con associazioni che si occuperanno del ristoro e della sensibilizzazione di atleti e partecipanti alle tematiche salutiste la particolarità di quest'anno è l'accordo con la scuola italiana di camminata sportiva oltre alla partnership ormai consolidata con la Lilt al costo delle iscrizioni verrà sottratto un euro per ogni atleta e devoluto a un progetto che costruisce attrezzature sportive da destinare ai ragazzi in Iraq sarà la prima di tutta una serie di manifestazioni che si svolgeranno nel mese di aprile maggio, giugno e luglio stiamo preparando un calendario molto importante dal punto di vista sportivo e dal punto di vista turistico Vivi Città insomma rappresenta voglio dire una delle punte di diamante speriamo in una grande partecipazione dei cittadini come al solito io dico insomma chiediamo un po' di tolleranza ai cittadini di Pescara perché insomma qualche piccolissimo problema di viabilità ci sarà durante la giornata di domenica insomma sono problemi assolutamente superabili finisce qui la prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23 grazie per averci scelto un po' di tolleranza